Per il Movimento 5 Stelle la libertà di informazione e di stampa è fondamentale. Oggi sono qui per presentarvi due disegni di legge che riguardano l'attività dei giornalisti. Un'attività che deve essere messa nelle condizioni di operare al meglio per tutelare il diritto dei cittadini ad essere correttamente e pienamente informati. Uno riguarda la segretezza delle fonti e la loro protezione. L'altro l'annoso problema delle liti temerarie con le quali i potenti di turno cercano di imbavagliare la libera informazione e i cittadini in generale. Vediamola prima. La segretezza delle fonti è l'elemento cardine e il presupposto per la libera e autonoma attività dei giornalisti. E lo è, attenzione, tanto più in un sistema dell'informazione come quello italiano, condizionato, come sapete, dagli inquinamenti degli assetti proprietari di giornali e televisioni che vedono in posizione dominanti editori o pseudo tali che hanno i loro interessi primarie non nell'editoria, ma in altre attività economiche che marciano spesso e purtroppo a braccetto con la politica. Ebbene, è giunto il momento che anche il nostro ordinamento tenga conto dei diritti riconosciuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di Strasburgo. Nel nostro Paese, infatti, il segreto professionale dei giornalisti e la tutela delle sue fonti esiste ma solo sulla carta. Sono sempre più frequenti i casi di cronisti arrestati, incriminati, inquisiti, perquisiti nella loro redazione e persino abitazione proprio per essersi rifiutati di fornire all'autorità giudiziaria l'identità dei loro informatori. Questo accade perché il segreto professionale dei giornalisti non è purtroppo pienamente tutelato dal nostro ordinamento. L'articolo 200 del Codice di Procedura Penale dice infatti che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto, per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, i ministri di confessione religiosa, gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai, i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ustetriche e, pensate un po', ogni altro esercente, una professione sanitaria. Insomma, tutti pienamente tutelati e ne sono felici, tutti meno che i giornalisti. Ma perché? È vero che le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 200 si applicano ai giornalisti professionisti scritti all'arbo professionale, relativamente ai nomi delle persone, dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Ma attenzione, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte delle notizie, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. E qui siamo al cuore del problema. Perché se il giornalista si rifiuta, possono scattare proprio l'arresto, l'incriminazione per falsa testimonianza e anche le perquisizioni. E tutto questo in una terra di nessuno, nella quale il giornalista è per di più tra due fuochi. Da un lato la magistratura che lo inquisisce, dall'altro gli obblighi di legge deontologici che lo vincolano al segreto. Per queste ragioni propongo la modifica dell'articolo 200 del codice di procedura penale, come potete leggere nel testo del disegno di legge. Nuove norme che non potranno più costringere il giornalista a fornire i nomi delle fonti dei propri articoli. Infine, la questione delle liti temerarie. Quelle richieste, spesso milionarie di risarcimento danni, che potenti e politici mettono sempre più spesso in campo al solo scopo di intimidire giornalisti ed editori. Che cosa propongo? Anche in questo caso una semplice norma per arginare il fenomeno. Norma che rende care e costose le liti temerarie della quale potranno giovarsi anche tutti i cittadini intimoriti spesso, senza giustificazione, dai soliti potenti. Una norma che, modificando l'articolo 96 del codice civile con l'introduzione di un nuovo comma, condanna il querelante al pagamento in favore del giornalista di un risarcimento non inferiore al 50% di quanto aveva temerariamente chiesto. Queste proposte resteranno su Rousseau per i prossimi 60 giorni. Così avrete modo di proporre modifiche, integrazioni e correzioni per migliorarla. Buona partecipazione a tutti! Grazie a tutti!